Adesso magari vi stupirò, forse no, io ho deciso di vaccinarmi, io sono vaccinato, ma sono sempre sceso in piazza anche con un bel cartello in cui c'era scritto io vaccinato dalla parte dei no Green Pass, perché ritengo che siano due cose totalmente diverse, perché il vaccinarsi non ha nulla a che vedere, cioè il Green Pass non ha nulla a che vedere col mondo scelto, è un fatto politico, è un fatto puramente politico, no? E quindi è su quello che dobbiamo batterci insieme, ma secondo me anche su tutto il resto, non dimentichiamoci una volta che per incanto tutto dovesse finire, anche se francamente più passano le settimane, più ho paura che qui, cioè i tempi si stiano sempre più allungando.